Ti stai chiedendo come funziona una bocchetta aspirante con microinterruttore? Te lo spiego in questo video. Ciao, sono Igor di Aspirastore. In questo video ti spiego il funzionamento della bocchetta aspirante con microinterruttore. Per maggiori informazioni puoi venirmi a trovare direttamente in sede in azienda a Tombolo, in provincia di Padova, oppure contattarmi via web sul sito aspirastore.com. Devi sapere che la bocchetta aspirante con micro è anche chiamata presa con via automatico perché aziona l'impianto all'apertura dello sportellino. Quando ti dovesse capitare di sostituire una vecchia presa aspirante con microinterruttore, hai due alternative. O comprare un'altra bocchetta aspirante con microinterruttore, oppure valutare una sostituzione con una più moderna presa aspirante con contatti elettrici. Tra le due soluzioni, la sostituzione della bocchetta con una nuova bocchetta con contatti elettrici è quella che ti suggerisco. In questo caso dovrai dotarti di un raccordo metallico conduttivo per attivare l'impianto all'inserimento del raccordo tubo presa nella bocchetta con contatti. La presa con contatti elettrici è più sicura e consente anche di gestire un tubo flessibile con interruttore con comando su impugnatura per attivare e spegnere l'impianto di aspirazione comodamente da un pulsante. Ho realizzato un video che spiega come fare la sostituzione della bocchetta aspirante da solo. Se è quello che ti interessa, vai subito a vederlo.